Giorgetti al Corriere della Sera, la Gigafactory presto a Termoli, il ministro per lo sviluppo economico intervistato oggi ha ribadito che a breve ci sarà la firma per la fabbrica del gruppo Stellantis, un investimento che rimette Termoli al centro del progetto. Scintilla al centro dopo le frasi di Mastella, Azione difende Calenda dopo l'attacco del sindaco di Benevento, intanto Michele Marone è nominato segretario della Lega di Salvini. Da domani in Molise torna zona gialla, continuano a essere alti l'incidenza e il tasso di positività nella nostra regione, ora 15 giorni di restrizioni anche se i numeri cominciano a calare. Delitto di Natale decisivo, l'esame dei cellulari, nessuna impronta trovata dai RIS di Roma sul coltello troppo insanguinato a dipanare la matassa sarà la ricostruzione delle telefonate. Ancora buona domenica dalla redazione da parte mia, ben trovati all'edizione delle 14 del telegiornale. In apertura parliamo ancora della Giga Factory di Termoli, la fabbrica delle batterie del gruppo Stellantis, un insediamento come ce ne sono altri due in Europa che dunque mette Termoli al centro del progetto industriale dell'azienda torinese. Oggi sul Corriere della Sera il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha ribadito nel corso di un'intervista che la fabbrica si farà proprio a Termoli e l'accordo sarà firmato a breve. Sentiamo i particolari da Francesca Danversa. Siamo molto vicini, questione di pochi giorni alla firma per la Giga Factory di Termoli dove Stellantis farà le batterie, lo ha dichiarato il Ministro Giancarlo Giorgetti in un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera. Giorgetti ha poi spiegato che la nuova filiera elettrica richiederà comunque metà della manodopera oggi impiegata da quella tradizionale e ha aggiunto che le imprese e l'automotive vanno aiutate a riconvertirsi rendendo disponibili gli accordi di programma e i contratti di sviluppo, anche se ha aggiunto gli strumenti sono troppo lenti e burocratici. Questo settore va finanziato massicciamente, lo abbiamo già chiesto al Ministero dell'Economia. Per lo stabilimento della città triatica con i suoi 2.500 dipendenti la realizzazione della Giga Factory è una vera e propria riconversione, un investimento di 2 miliardi e mezzo di euro e 370 milioni sono contributi statali. L'amministratore Carlo Tavares la scorsa estate aveva fatto sapere la sua intenzione di investire oltre 30 miliardi entro il 2025 nell'elettrificazione del software. La questione Giga Factory sarà progetto di discussione nei mesi scorsi in un consiglio comunale a Termoli dopo che il consigliere di maggioranza Vincenzo Sabella aveva presentato un ordine del giorno approvato all'unanimità con il quale impegnava il sindaco Roberti a fare pressione sul governo e sulla regione per evitare che la Giga Factory venisse realizzata altrove. Anche a Campobasto i consiglieri di minoranza avevano chiesto al Presidente del Consiglio di portare la questione in aula. Ormai i timori di una non realizzazione della Giga Factory a Termoli, la terza in Europa, sembrano essere svaniti dopo le ultime dichiarazioni. Anche nel mondo sindacale c'è soddisfazione ma non si lasciano andare a facili entusiasmi perché vogliono avere certezze sul mantenimento dei posti occupazionali, anche se le dichiarazioni del Ministro Giorgetti di questa mattina non lasciano presagire nulla di buono sul livello occupazionale dello stabilimento di Termoli, visto che parla di un dimezzamento della monodopera attualmente occupata. E ora parliamo del botta e risposta che si sta verificando al centro, nei gruppi di centro della politica regionale dopo l'intervento di Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento aveva attaccato calenda di azione. Il livello locale è intervenuto e c'è stato un botta e risposta polemico. Dicevamo intanto la Lega di Salvini ha nominato segretario regionale Michele Marone. La partita è complicata e la scena affollatissima. Le manovre per conquistare o riconquistare Palazzo Vitale sono già tutte abbastanza visibili. Come spesso accade, e in Molise quasi sempre, i giochi decisivi si svolgono al centro, che sia più verso destra o verso sinistra, poco importa. Il vento che tira orienta anche le scelte dei moderati. E a centro sono già cominciati spostamenti e posizionamenti con tutto ciò che comporta in termini di code polemiche e scaramucce. Trovo vile e vergognoso l'attacco personale fatto a Carlo Calenda. Ha fatto sapere il sempre attivo sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente, neosegretario regionale del partito voluto dall'ex PD Azione. La reazione è rivolta a Clemente Mastella, immarce scibile protagonista della vita politica nazionale e locale degli ultimi 30 anni. Il sindaco di Benevento, che ha avuto l'ennesimo momento di visibilità anche per l'elezione del Capo dello Stato, ha imbastito un botta e risposta con Calenda, che ha avuto ripercussioni anche in periferia. Proprio in Molise, dove Mastella ha sempre seminato e raccolto voti, e proprio come Calenda, ha da poco individuato in Alessandro Amoroso, laborioso sindaco di Petrella, il successore di Vincenzo Niro, suo vecchio punto di riferimento sul territorio molisano negli ultimi anni. Invece di gettare fango sugli avversari, ha aggiunto Valente, è necessario offrire una politica seria fatta di contenuti e idee. È abbastanza facile prevedere che i due sindaci saranno in campo alle prossime elezioni regionali. Compito forse più arduo quello che il colonnello di Salvini in Molise, il deputato Iaricolla, ha affidato a Michele Marone, già assessore in quota Lega nella giunta Toma, poi sostituito con Filomena Calenda, Marone dovrà guidare il carroccio da segretario regionale almeno fino alle elezioni. Il compito è quello di tenere unito il gruppo politico che aveva portato due consiglieri a Palazzo Daimmo per poi finire con zero poltrone. Marone ha lasciato la giunta regionale senza battere ciglio, tornando a lavorare sotto traccia a Termoli. Con un centrodestra in fibrillazione, la sua calma serafica potrebbe tornare utile alla causa. Siamo all'andamento del Covid. Secondo il bollettino ufficiale c'è stato un altro decesso, un uomo di 81 anni di Boiano era ricoverato in malattie infettive. Sono 377 i nuovi positivi su 2750 tamponi refertati tra molecolari e antigenici, 5 i 9 i ricoveri a malattie infettive, ci sono 36 guariti. A marzo scadranno i contratti di 100 unità negli ospedali regionali tra infermieri e os, nei reparti Covid e nella zona dove vengono somministrati i vaccini. Non è stata prevista nessuna sostituzione da parte della struttura commissariale, dice la Fialz. Sentiamo Marta Martino. A marzo gli ospedali molissani rischiano di trovarsi con 100 unità in meno tra infermieri e os, quindi è a rischio la cura dei pazienti Covid, la riabilitazione dei pazienti Covid e anche la vaccinazione dei molissani. Sì, subito dopo l'inizio della pandemia furono assunti a tempo determinato circa 400 unità di personale. La maggior parte di questi dipendenti hanno il primo anno di scadenza entro il mese di marzo e l'ASREM, non avendo avuto alcuna determinazione da parte del commissario della sanità. Sicuramente staccherà 20 giorni, così come dice il contratto. Sicuramente staccherà 20 giorni e hanno in mente di rinnovare per sei mesi anziché per un anno. A noi preme tantissimo adesso risolvere la prima problematica che riguarda i 20 giorni di stacco. Non è possibile, non è concepibile che si possa interrompere un servizio perché si tratta di interruzione di servizio e si tratta di interruzione di servizio in rianimazione e nei reparti Covid e nel post Covid e sul territorio presso i centri vaccinali perché una parte di questi infermieri lavorano presso i centri vaccinali. Questo è il clude. Io dico che la quarta ondata da noi non è ancora arrivata al clou, siamo al clou della quarta ondata e nessun operatore può essere mandato a casa per questi benedetti 20 giorni. E lei voleva fare un appello però? L'appello è al commissario alla sanità ma anche al direttore generale dell'ASREM affinché si trovano delle soluzioni che non interrompano il servizio e per dare continuità al servizio e agli operatori che comunque dall'inizio della pandemia stanno dando il meglio di loro stessi e per curare i nostri concittadini. Perché c'erano anche in ballo 900 assunzioni. Eh, piano occupazionale. Senza piano occupazionale, senza un programma, io penso che sia difficile poi fare le assunzioni. Non c'era riorganizzazione prima, o meglio, è stata tentata una riorganizzazione ma mi sembra che il governo nazionale l'ha rigettata, un'organizzazione che comunque non curava i pazienti tempodipendenti e così via. Non è stato decretato il piano occupazionale, quindi si sta coprendo a macchia di leopard le maggiori carenze che riguardano i dirigenti medici ma non ci dimentichiamo che oltre ai dirigenti medici necessitano infermieri OS, ma necessitano anche tecnici e autisti di autoambulanza. Questi ultimi manco più menzionati e penso che senza autoambulanza il trasporto da un ospedale all'altro non si possa fare. Ora parliamo del delitto della vigilia di Natale con il nuovo esame dei RIS di Roma che hanno preso visione del coltello utilizzato nel delitto. Non ci sono, o meglio, non sono emerse impronte digitali perché sull'impugnatura del coltello c'era troppo sangue. Questa è la notizia trapelata. Intanto si profila decisivo l'esame dei cellulari per via della ricostruzione cronologica delle telefonate e dei messaggi. Troppo sangue su quel coltello. I RIS di Roma non sono riusciti a definire impronte digitali e così l'arma del delitto della vigilia di Natale non ha dato le risposte attese e dal punto di vista processuale potrebbe rivelarsi inutilizzabile o al contrario perché sbucato all'improvviso sulla scena del crimine, del quale nessuno ha rivendicato il possesso o la proprietà, potrebbe essere determinante se se ne riuscisse a dimostrare la provenienza. Quel coltello non era mio, ha detto Gianni De Vivo nell'interrogatorio che lui stesso ha chiesto rispondendo alle domande dei magistrati. Stando a quanto si è appreso, uno dei testimoni oculari della scena finale dell'accoltellamento di Cristiano Micatrotta, avvenuto in via Vico, ha raccontato un particolare preciso e crudo proprio sul coltello conficcato nel collo della vittima. Tuttavia è ormai evidente che a dipanare la matassa potrà essere solo la ricostruzione cronologica delle telefonate e dei messaggi WhatsApp che si sono accavallati la sera del 24 dicembre sui cellulari della vittima, del presunto assassino e del cognato di Cristiano, peraltro indagato per rissa. Le versioni finora raccolte dagli investigatori non combaciano in alcuni punti e posto come punto fisso quello che avrebbe scatenato la lite, l'acquisto o la cessione di un non precisato quantitativo di droga, resta da capire chi ha fatto il primo passo verso quello che si è poi rivelato un precipizio nel quale, per sua sfortuna, è però finito il 38enne di Campobasso ferito a morte da una coltellata. La Giunta ha approvato la candidatura del Comune di Campobasso e il progetto di fattibilità tecnico ed economico per ottenere il finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica. Il progetto prevede il recupero dei fanghi prodotti dal ciclo depurativo attraverso la realizzazione di un impianto che utilizzi la tecnologia di ossigassificazione per eseguire la conversione termochimica dei fanghi di depurazione. Questa realizzazione, hanno spiegato da Palazzo San Giorgio, porterebbe diversi benefici alla comunità e all'ambiente, dal risparmio del trasporto e del trattamento in discarica dei fanghi prodotti, dai reflui urbani, dal riutilizzo degli scarti che derivano dalle potature del verde, arrivando a produrre invece energia elettrica da immettere in rete. Il progetto da oltre 4 milioni di euro, nel caso in cui venga messo a finanziamento, troverà apposita copertura finanziaria attraverso l'iscrizione a bilancio con vincolo in entrata. Preoccupa sempre di più la situazione inquinamento ambientale a Venafro, con lo sforamento continuo dei rilevatori delle polveri sottili. Città Nuova ha incontrato il prefetto di Sernia Faramondi e domani ha organizzato un'assemblea pubblica alla Palazzina Liberty. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Allarme rosso per l'inquinamento a Venafro. Oramai gli sforamenti dei limiti, sia per il PM10 che per il PM2,5, sono quotidiani e l'allarme generalizzato. Giovedì una delegazione di Città Nuova è stata ricevuta dal prefetto Faramondi ed ha esternato tutte le sue preoccupazioni. Subito dopo il deputato 5 Stelle Antonio Federico, capogruppo della Commissione Ambiente, ha incontrato sia il sindaco Alfredo Ricci che il consigliere regionale Vittorio Nola. Domani, lunedì alle 18, alla Palazzina Liberty, convegno sull'inquinamento e sulle sue cause, organizzato sempre da Città Nuova. Infine, il 23 febbraio, il Tarmolise esaminerà il ricorso delle mamme per la salute contro il PRIAMO, piano ambientale regionale. Insomma, sembra un diario di guerra. Purtroppo a Venafro l'inquinamento è una sfida quotidiana per la qualità della vita che interessa non solo comitati e amministratori, ma migliaia di famiglie preoccupate per le condizioni del territorio sul quale vivono. Insomma, una situazione da terra dei fuochi in chiave molisana che giorno dopo giorno diventa sempre più angosciante, oltretutto sempre ed ancora in mancanza di un registro tumori che certifichi l'incidenza delle malattie di tipo cancerogeno causate dall'inquinamento ambientale. Antonio Federico ha detto che i primi dati del monitoraggio ISPRA, voluto dall'ex ministro dell'Ambiente Costa, mostrano la notevole incidenza della combustione delle biomasse domestiche sulla presenza di PM10 e l'impatto del traffico veicolare sul NOX, l'ossido di azoto altamente inquinante. Allo stesso tempo però, continua il deputato, per alleggerire la città di Venafro dal traffico veicolare bisogna spingere sulla variante di Mignano-Monterungo, che già vanta uno studio di fattibilità avviato e già presente nel contratto di programma ANAS e rappresenterebbe anche il primo lotto di una strada a quattro corsie determinante per portare l'intero Molise fuori dall'isolamento. Dunque bisogna lavorare a livello multidisciplinare e con l'ausilio di tutti, regione, Molise e compresa. Fin qui Federico, ma con tutto il rispetto per politici, amministratori e comitati vari, l'impressione di Venafrani è quella di sentire il classico disco rotto, che suona sempre la stessa strofa. E adesso è proprio ora di cambiare musica, perché la barca sta affondando. Tutti dicono, scrivono e denunciano le stesse cose, ovvero che a Venafro l'aria è inquinata, ma lo dicono da almeno un decennio, senza che nessuno abbia ancora fatto nulla di concreto, almeno fino ad oggi. Il Comitato per la salvaguardia del territorio chiede invece un incontro con l'assessore alle politiche energetiche e all'ambiente, Quintino Pallante, per sollecitare l'approvazione del piano energetico. Il Comitato, ha dichiarato il Presidente Don Nicola Pietrantonio, interpretando l'unanime senso di timore e disapprovazione espresso, chiederà l'incontro con l'assessore Pallante per sollecitare l'approvazione del piano energetico. Dicevamo, non si può accettare, ha aggiunto il Presidente Don Nicola Pietrantonio, che determinate aree vengano stravolte e snaturate, come quella del parco eolico in programma a San Martino e a Campomarino, nelle peculiarità ambientali, economiche e sociali, in nome della necessità di aumentare le fonti di energia rinnovabili. Per le aree interne di sette comuni sono stati stanziati oltre mezzo milione per la valorizzazione del territorio. Sentiamo Alessandra Potena. Promuovere il turismo, le attività artigianali e commerciali e recuperare e dare il rilievo al patrimonio artistico, storico e naturale. Oltre mezzo milione di euro dunque per valorizzare le aree interne di sette comuni del Molise, Capracotta, Roccamandolfi, San Pietro Avellana, Pietracatella, Civita, Campomarano, Agnone e Vasto Girardi. I sindaci dei paesi hanno incontrato l'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere, che ha voluto complimentarsi per i progetti candidati ad ottenere le risorse del Fondo Nazionale per la Montagna. Un sostegno ha spiegato l'assessore Cavaliere alle aree interne, cuore pulsante dell'identità del Molise. Non risolutiva, ma oggi ogni piccolo passo in avanti può risultare importante per la sopravvivenza dei territori. È fondamentale, ha concluso, il concetto di rete e collaborazioni tra cittadini, istituzioni, amministrazioni, imprese e associazioni culturali. Non solo aree interne, ma anche settore forestale. Pubblicata infatti in gazzetta ufficiale la strategia forestale nazionale, il documento per supportare le amministrazioni centrali e regionali. Obiettivo principale della strategia è quello di tutelare le risorse naturali, per avere in tutta la penisola foresti estese e ricche di biodiversità. Per il territorio molisano è uno strumento fondamentale che, unito alla nuova legge quadro sulla montagna, ancora in via di definizione, e alla strategia nazionale aree interne può portare a grandi risultati. E a questo proposito l'assessore Cavaliere ha commentato che si tratta di un sostegno alle aree interne che rappresentano il cuore pulsante dell'identità del Molise. Questa misura, ha detto, non è certo risolutiva, ma ogni piccolo passo può risultare importante per la sopravvivenza dei territori. E domani tutto il mondo celebra la giornata internazionale dell'epilessia. Per tenere alta l'attenzione su questo problema i monumenti saranno illuminati di Viola. Lo faranno anche a Isernia e a Venafro, nello specifico la Palazzina Liberty e Fontana Fraterna. Sentiamo Valeria Migliore. Il 14 febbraio è la giornata internazionale dell'epilessia e come ogni anno in tutto il mondo vengono organizzate numerose iniziative tese a far conoscere questa malattia e a combattere lo stigma che l'accompagna. Tra i numerosi eventi organizzati in Italia e nel mondo spicca certamente l'illuminazione di Viola dei monumenti più rappresentativi delle varie città. Molti monumenti che anche in Molise hanno aderito all'iniziativa, tra cui la Palazzina Liberty di Venafro e la Fontana Fraterna di Isernia. Come spiega il dottor Alfredo Daniello, neuropsichiatra infantile presso il centro epilessia del Neuromed, l'epilessia colpisce l'1% della popolazione e solo nel nostro paese si stimano più di 500.000 persone che ne sono affette. Si tratta però di una condizione che oggi, grazie ai notevoli progressi della farmacoterapia, si cura sempre meglio, ma purtroppo, ancora troppo spesso, si accompagna a pregiudizi che generano sconforto e isolamento, non solo nelle persone che ne soffrono, ma anche nei familiari. A causa della pandemia gli eventi in presenza sono molto limitati, continua Daniello, e quindi assume ancora più importanza l'illuminazione dei monumenti. I nostri pazienti, piccoli o grandi che siano, hanno bisogno anche di queste iniziative che accendono una luce su una condizione ancora poco conosciuta dalle persone. Un libro per coltivarsi, si intitola così il ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca diocesana di Termoli. Larino, per riflettere sul tema dell'amore, attorno al libro I quattro amori di Lewis, ce ne parla Francesca Danversa. L'affetto è universale, la base di tutti i sentimenti. Chiara Pitulli con Don Antonio Sabetta, teologo e filosofo, hanno dialogato sul significato profondo di questo sentimento. L'affetto è stato il tema del primo incontro dell'iniziativa Un libro per coltivarsi, organizzato dalla Biblioteca diocesana di Termoli. Larino, inaugurata di recente. Gli incontri sono strutturati attorno al libro di Lewis, I quattro amori. Don Claudio Cianfaglioni, direttore della biblioteca, ha spiegato che lo scopo dell'iniziativa è quello di riflettere insieme, partendo dalle pagine del libro su un tema complesso e articolato, come quello dell'amore. In tutti gli incontri che partecipano al progetto Educare Insieme di Teatrando, i giovani della diocesi si confrontano con docenti universitari per discutere sulle varie declinazioni del tema. Abbiamo riflettuto insieme sull'educazione all'affetto, che è una cosa che molto spesso manca, non solo nel panorama scolastico, ma anche nel panorama di vita di ognuno di noi. Noi viviamo in una contemporaneità che è fondamentalmente centrata sugli affetti, spesso però declinati in termini o di istinti o di emozioni, che non sono totalmente sovrapponibili all'affetto. E allora questo genera una certa fatica a vivere l'affezione e l'affettività, perché noi siamo eredi di una tradizione che aveva declassato l'affetto da valore veritativo e quindi la sua importanza rispetto a ciò che conta nella vita. E siamo entrati in un'epoca in cui l'affetto è diventato un assoluto e di conseguenza non riusciamo più a viverlo nel rispetto del suo valore. Termina qui l'edizione del 14 del nostro telegiornale. Vi lascio alla nostra programmazione. Ci vediamo in serata per gli aggiornamenti. È tutto da parte mia e dalla redazione. Ancora una buona domenica. Ancora una buona domenica. Ancora una buona domenica.